Ciao, granchio reale! Ciao, tartaruga dal dorso di diamante! Che cosa stai facendo? Sto facendo delle domande perfette! Oh, davvero? Posso fare una domanda? Certo! Allora, quando pensi di farmelo conoscere? Gloria! Come hai pensato? Ho pensato da Gloria! Bene! Ora vai a salutare da Gloria! D'accordo! Granchio reale! È venuta a salutare Gloria! Oh, che piacere vederti! Grazie! Sono davvero felice per te! Grazie! 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 Grazie!